eccola la superluna di marzo quella del 9 marzo 2020 è stata e sarà la superluna più brillante di quest'anno purtroppo dalla mia parte quella sera il cielo era un po velato e non ho potuto proporvi le belle immagini di una superluna nitidissima visto che mi piace parlare della luna e testimoniare questo tipo di eventi astronomici vi lascio le immagini della luna del giorno dopo quella del 10 marzo 2020 ovviamente nelle immagini che state vedendo il nostro satellite non sarà la minima distanza da noi di 357.122 chilometri ma in termini astronomici la differenza della sua distanza per la nostra percezione è davvero minima e poi a dire il vero il perigeo lunare ovvero il punto più vicino alla terra del nostro satellite si è tenuto proprio il 10 marzo alle ore 6 e 34 bene ti ringrazio per avermi seguito sin qui se i video che parlano del cielo e dell'astronomia ti piacciono ti invito a visitare le playlist del mio canale dedicate a tali argomenti e ad iscriverti al mio canale trovi tutti i link in descrizione un saluto lunare da lucoral